È un weekend di speranza, quello che si lasciano le spalle VL e Vispesero. La prima, nel sabato sera della Vitrifico Arena, ha battuto Pistoia 89-82, centrando per la prima volta due vittorie consecutive che le consentono di continuare a sperare nella salvezza. 24 ore dopo, la Vispesero ha battuto 1-0 il Perugia al Benelli, mettendo un cerotto all'emorragia di cinque sconfitte consecutive e ritrovando la vittoria che mancava da due mesi. A decidere il match, il primo gol tra i professionisti di Gianmarco Neri, che trova di testa su calcio d'angolo la rete che vale tre punti e che tengono la visse al terz'ultimo posto incollata alle squadre che la precedono. Contro Sestre Levante e Juventus Next Gen, le ultime due gare di un campionato, che, se vinte, consentirebbero di alimentare il sogno della salvezza diretta o quantomeno di giocare play-out in posizione di favore. Paracadute dei play-out che non ha la VL che nelle ultime tre gare di campionato si gioca tutto. Intanto la vittoria su Pistoia ha consentito però di rosicchiare due punti a Varese Treviso che precedono i biancorossi. E sulla Nutribullet si avrebbe pure il vantaggio degli scontri diretti. Quattro punti avanti a Pesaro c'è invece Cremona che si giocherà lo scontro diretto alla Vitri Frigo Arena. Insomma, giochi complicati ma ancora aperti. Nel basket di Serie B ha invece conquistato i play-off Little Service Loreto Pesaro. Decisivi i due punti ottenuti ai danni del Palestrina 98-85 che mandano aritmeticamente i ragazzi di Foglietti alla prossima fase della stagione. Passando a rugby sul campo di Muraglia, la Fiorini Pesaro non riesce ad avere la meglio su una borsare badia determinata e a caccia di punti salvezza. I Veneti chiudono il match sul 24-31 e i pesaresi non bastano due mete di tontini e una di sacchetto per evitare la sconfitta. Arriva un punto in classifica che ancora non garantisce la salvezza aritmetica con tre partite ancora da giocare per chiudere la stagione. Nella pallavolo, campionato già archiviato da settimane per la Megabox Vallefoglia che però questo weekend ha vissuto delle emozioni forti dell'annuncio del ritiro dalla pallavolo di Tatiana Koshleva. Dal mondo Megabox il grazie alla 35enne bielorussa che dopo un grande palmarès personale ha giocato le ultime tre stagioni a Vallefoglia da capitano delle Tigri trascinate ai traguardi della prima salvezza in Serie A e poi dei primi play-off. Grazie. Grazie a tutti.